L'arte e le nuove generazioni per la tutela dell'ambiente. Si esprime con questo titolo l'Associazione di Volontariato Piattaforma Solidale, che con questa iniziativa porrà al centro dell'attenzione la bellezza dell'arte come esaltazione delle bellezze della natura. Un concetto che sarà esaltato in Piazzale della Libertà e in zona Moletto venerdì 7 luglio dalle 17 alle 22 attraverso una mostra di 25 artisti di arte solidale pro arte e da laboratori d'arte inclusivi rivolti ai bambini da 8 a 13 anni. Continua l'impegno di Piattaforma Solidale nel cercare di portare valori importanti come quello dell'inclusione, dell'accessibilità e della solidarietà nelle nuove generazioni. Non a caso Piattaforma Solidale si porta come obiettivo quello di investire sul futuro, ma il futuro si crea mettendo insieme le varie generazioni e entrando nelle scuole di ogni livello a portare quei principi e quei valori che ho detto prima. Questa iniziativa vuol portare all'interno della fascia d'età 8-13 anni soprattutto nel valore del rispetto dell'ambiente, perché rispettare l'ambiente significa essere solidali. L'uomo, la donna deve essere solidale con l'ambiente che lo circonda. Se non si porta avanti questa solidarietà non si riesce a fare uno sviluppo equilibrato e lo sviluppo equilibrato deve essere l'obiettivo per il futuro per salvare il pianeta, perché non dimentichiamo quello che sta accadendo e forse stiamo arrivando anche un po' lunghi, siamo un po' in ritardo, però questo non ci deve far arrendere, anzi ci deve portare a battagliare ancora di più e a impegnarci ancora di più per affermare l'inclusione e l'accessibilità. È un'iniziativa che ci piace molto perché mette al centro i ragazzi che saranno coinvolti in attività durante quella giornata e saranno i protagonisti, quindi i collaboratori, ma è un'iniziativa che ci piace perché è nello spirito di piattaforma solidale, ma anche nello spirito della sensibilità dell'amministrazione comunale, quello di coinvolgere tematiche artistiche legate all'ambiente e legate alla solidarietà. E' per questo che abbiamo sposato sin da subito il progetto ed è un'iniziativa che si inserisce in un quadro, un'iniziativa di inclusione che stanno coinvolgendo fortemente la città in questo periodo, quindi diciamo a tutte le famiglie di venire, venire a trovarci e ai ragazzi e ai bambini di divertirsi in quella giornata perché siamo lì per loro.